Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, le piedonne di cui parla il Vangelo di oggi sono le prime che si recono il sepolcro all'alba della Domenica, sono le prime a vederlo aperto e vuoto e a dare l'annunzio ai discepoli. L'annunzio della nascita di Gesù e Betlemme è stato portato dagli angeli ai pastori e l'annunzio della risurrezione a Gerusalemme è dato dagli angeli alle donne. Sono questi i gusti di Dio. Per i suoi grandi messaggi Dio sceglie di preferenza gli umili, i semplici, ciò che è disprezzato affinché nessuno possa gloriarsi. Nella società dell'epoca la testimonianza delle donne non era presa molto in considerazione, ma Dio volle servirsi proprio di ciò che il mondo rifiutava e considerava di poco valore per darci una grande lezione, quella riguardante l'umiltà del cuore. Dio si fa trovare da chi è umile e semplice. Queste sono le sue preferenze. Chiediamo al Signore risorto che ci doni questa grazia così importante senza la quale saremo come dei ciechi in balia del nostro orgoglio. Mentre le pie donne vanno a portare la lieta novella, Gesù va a loro incontro dicendo salute a voi. Prima degli apostoli esse hanno la grazia di vedere il Signore risorto in premio della loro fedeltà con cui l'hanno seguito al Calvario, assistito alla sepoltura e sono poi ritornate per rendere omaggio al suo corpo. Nelle parole di Gesù c'è un particolare molto bello. Egli per la prima volta chiama gli apostoli con il nome di fratelli. Ora che risorto da morte sta per tornare al Padre, essi li sono più che mai fratelli per la grazia ottenuta con la sua morte e dissurrezione. Noi siamo fratelli di Gesù e figli di Dio per la redenzione operata da Cristo. Intanto le donne prostrate abbracciano i piedi di Gesù. Questo gesto esprime l'amore e la riverenza per colui che pur avendo innalzato gli uomini alla dignità di figli di Dio è pur sempre il loro Dio. Anche noi siamo prostrati ai piedi di Gesù ogni volta che lo adoriamo con umiltà e con piena confidenza a lui ci affidiamo. In questo tempo di Pasqua troviamo il tempo per fermarci in chiesa in silenziosa adorazione di Gesù presente nel tabernacolo, ringraziandolo per il gran dono della salvezza e presentando quelle che sono le nostre ansie e preoccupazioni. Deponiamo tutto nel suo cuore divino e confidiamo in lui. Mettiamoci anche noi ai piedi di Gesù e come Maria di Betania ascoltiamo la sua voce che parla nel silenzio. La preghiera è soprattutto ascolto. All'inizio della vita spirituale l'anima è presa dalle molte cose da dire a Gesù. Ecco allora che prevale la preghiera vocale su tutte le altre forme di orazione. Ma quanto più l'anima sale su per la scala dell'orazione tanto più si rende conto dell'importanza del silenzio, dell'ascolto interiore. Al primo gradino daremo grande importanza alla preghiera vocale, al secondo gradino prevarrà la riflessione, la meditazione. Al terzo gradino avranno il sopravvento gli affetti del nostro cuore, mentre al quarto gradino ci sarà il semplice sguardo pieno d'amore. Non mancheranno le preghiere vocali, ma si darà più importanza ciò che Gesù vorrà dire al nostro cuore. Domandiamoci ora, in che modo potremo noi salire su per questa scala? Innanzitutto si deve curare bene la meditazione quotidiana, semplificandola sempre di più. Si sale su per questa scala fino a che anche noi giungiamo ai piedi di Gesù con la preghiera di semplicità. Questa preghiera è la più sublime alla quale possiamo arrivare con le sole nostre forze, sostenuti, si intende, dalla grazia di Dio. Oltre ciò c'è solo la contemplazione che è puro dono di Dio e solo Lui ci potrà introdurre in essa. La preghiera di semplicità, detta anche di semplice sguardo, è una preghiera estremamente semplificata. Consiste nel guardare e nell'amare. Si racconta che nella chiesa dove era parroco San Giovanni Maria Viannè spesso entrava un contadino. Vi rimaneva per diverso tempo senza far nulla di particolare. Il santo parroco un giorno li domandò che cosa facesse tutto quel tempo in chiesa. Egli rispose, nulla, io guardo Lui e Lui guarda me. Stupenda risposta, quel contadino così semplice è raggiunto quasi senza accorgersene alle soglie della contemplazione. Man mano che ci addentriamo nell'orazione di semplicità tutto si semplifica, la nostra stessa vita si semplifica e riusciremo con il dono della sapienza a vedere tutto non dal punto di vista umano ma come lo vede Dio. Si riuscirà a vedere tutto con estrema semplicità. Si semplificherà in modo particolare la nostra preghiera. I nostri rosari saranno molto più belli. Non si faranno grandi riflessioni sui misteri ma guarderemo questi misteri con intenso amore. Le nostre letture saranno più devote e profonde e riusciremo a comprendere molto di più, non con molta riflessione ma con profondo intuito. La partecipazione alla messa sarà più spirituale e non consisterà nel fare ma nell'essere, nell'essere anche noi ai piedi della croce con l'addolorata. Quando giungeremo a questa semplicità non sentiremo più la voce assordante dei nostri ragionamenti ma il sussurro leggero della voce di Gesù che parlerà al nostro cuore. Lui parla sempre, siamo noi che non l'ascoltiamo. Mettiamoci anche noi ai piedi di Gesù come le piedonne del Vangelo di oggi. In questo tempo così anomalo questa forma di preghiera ci sarà certamente di grande aiuto. Ci si metterà ai piedi di Gesù soprattutto quando si verrà in chiesa e come il contadino di Arse con il cuore si guarderà Gesù con intenso amore. Ma ci si metterà ai piedi di Gesù anche nel silenzio della propria stanza chiamandolo nel nostro cuore. Vieni Signore Gesù. Un'ultima riflessione. Nel gruppo delle piedonne che si recarono al sepolcro e lo videro vuoto non c'era la Madonna. Per quale motivo? San Giovanni Paolo II in uno dei suoi insegnamenti diceva che secondo un'antica tradizione tramandata da alcuni padri della chiesa la Madonna per prima ebbe l'apparizione del risorto. Di questa apparizione non si parla nel Vangelo ma San Giovanni Paolo II vedeva un indizio di questa apparizione nel fatto che la Madonna non era con le donne che all'alba si recarono al sepolcro. Sarebbe infatti strano pensare che proprio la Madonna non fosse stata con loro. Il Papa Giovanni Paolo II vedeva inoltre un'altra prova nella speciale presenza della Vergine al Calvario e nella sua perfetta unione con il figlio nella sofferenza della croce. Era conveniente che colei che fu la più fedele discepola di Gesù e che lo seguì intrepida fino ai piedi della croce vedesse per prima il figlio nella gloria della sua risurrezione. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria.